Così si raccoglie il sale e si porta con le carriole dopo averla riempita dalla montagnetta fino a Trapiloulin e a formare la montagna. Un spettacolo straordinario. Il sale che va, che cade e crea la montagna. Ah, là dietro, perché vedete il borgo della fascia, ne ho dimenticato di tenere questa particolare luogo dove vivo e lavoro.